Che tu ci creda o no, la prima ora della tua giornata è l'ora più importante, cioè l'ora che determinerà l'esito della giornata stessa. Certo, dobbiamo sapere come affrontare la prima ora della giornata, soprattutto dobbiamo ritagliarci del tempo per noi stessi. Io ad esempio, la mattina appena mi sveglio, durante la prima ora, prima ora e mezza, mi dedico solamente a me. Faccio delle attività che mi permettono di vivere la mia giornata ancora più pienamente. E quindi, dato che me l'avete chiesto in molti, in questo video ti spiego quelle che sono le attività, le cose che io faccio la mattina appena sveglio. Prima cosa da sapere è quando svegliarci. Allora, questo dipende molto dall'orario nel quale tu vai a dormire. Mediamente, e l'ho letto su tantissimi studi, tantissimi libri sull'argomento, dobbiamo dormire mediamente otto ore a notte. Ma otto ore dormire davvero, cioè dormire in modo profondo. E questa è già una bella sfida. Ma dopo che abbiamo dormito otto ore, quando ci svegliamo, cioè quando suona la sveglia, dobbiamo schizzare giù dal letto. Almeno io faccio così. Salto giù dal letto, schizzo in piedi. E io sono uno di quelli che per una vita rimandava la sveglia, rimandava la sveglia, rimandava la sveglia, rimandava la sveglia. Ma poi ho capito che dobbiamo agire. Se ci pensi troppo alle cose, poi finirai per non farle. Quindi per svegliarti ci metterai tantissimo. Se invece inizi a frustare la tua vita, suona la sveglia e schizzi in piedi, non darai il tempo al cervello di dire no, dai, rimani un altro po'. Ma sarai tu a prendere il comando pieno, totale, della tua giornata e quindi della tua vita. Dopo essere andato in bagno, ho un corridoio lungo io in casa e corro verso la cucina. Corro letteralmente. Corro a bere due bei bicchieroni d'acqua e a prendere gli integratori che io prendo abitualmente. Prendo degli omega 3, dei probiotici, prendo delle vitamine, insomma, prendo quegli integratori che per me sono fondamentali. Tu prenderai, se dovrai prenderli, quelli che il tuo medico ti consiglierà. Ok, una volta che ho bevuto un po' d'acqua e preso gli integratori di cui ho bisogno, inizio a saltare sul rebound. Io ho un rebound che è un tappeto elastico dove puoi saltarci sopra e già solo il fatto di saltare ti attiva il sistema cardiocircolatorio e stimola la produzione di ormoni positivi come ad esempio le endorfine e ti mette di buon umore, cioè ti risveglia la felicità, la gioia, la voglia di vivere. La cosa ancora più bella è che mentre saltello sopra questo tappeto elastico inizio a fare delle affermazioni potenzianti, cioè mi dico che sono un prescelto, mi dico che la giornata sarà pazzesca, mi dico che sicuramente otterrò tutto quello che voglio ottenere, non so fare la differenza nella vita delle persone, insomma mi ripeto urlandole ad alta voce delle frasi che per me sono potenzianti, cioè che mi danno la carica per iniziare al meglio la mia giornata. Dopo che ho fatto questo per 10 minuti mi fermo e inizio a meditare per 15-20 minuti. Meditare intendo stare seduti con la schiena dritta e con gli occhi chiusi, cercando di accogliere il silenzio e cercando di ascoltare l'energia, il respiro, il battito del cuore, e tutto quello che avviene all'interno del nostro corpo per connetterci con noi e soprattutto con la nostra presenza. Cioè vivere 15 minuti, 20 minuti in totale silenzio e serenità. Questa è una vera e propria coccola che ti permette di iniziare la giornata non solo carico, ma anche amato, amato da te stesso. Ok, e dopo una bella meditazione faccio finalmente colazione. Io cambio molto spesso la mia colazione e di solito faccio acqua e limone e poi fiocchi di grano saraceno con frutta secca, con un po' di latte di mandorla e li mangio come se fossero una zuppa. A volte mi faccio anche due uova. Dopo che ho fatto colazione vado in bagno, mi lavo i denti e mi faccio una bella doccia ghiacciata. La doccia ghiacciata perché? Perché ti aiuta a svegliarti ancora di più se ancora non eri abbastanza sveglio, ma soprattutto dà un segnale al tuo cervello. La doccia non me la faccio totalmente ghiacciata. Inizio con la doccia calda per poi girare la manopola nel freddo. E questo, questo gesto di girare la manopola, per me è un ancoraggio potentissimo. Cioè dà un segnale al mio cervello che in comando, cioè ai controlli, ci sono io, Daniele, e non lui, il cervello. Poi una volta che mi sono vestito, dedico mezz'ora, ma anche un'ora, allo studio e alla lettura. Ovviamente per me lo studio e la lettura sono un elemento, un aspetto fondamentale. Io studio e leggo quasi tutto il giorno, quindi diciamo che per me questa è un qualcosa che io faccio poi tutto il giorno, soprattutto quando sono a casa. Per te però, che magari lavori e quindi devi uscire o devi portare i figli a scuola o è un lavoro da svolgere tutto il giorno, ritaglati comunque una mezz'ora dove la mattina a mente fresca, non la sera prima di dormire che sei stanco, ma la mattina a mente fresca, leggi le cose che per te sono importanti. Libri ispirazionali, motivazionali, dove trovi anche strategie di business, di vita, di come migliorare e potenziare quello che già fai. Insomma, non leggere romanzi la mattina, ma cerca di ispirarti, cerca di leggere dei libri, dei manuali che possano aiutarti in qualche modo a vivere la vita a un nuovo livello di felicità e di benessere. Mi auguro che questo video ti sia stato utile, questo è quello che faccio io durante la prima ora della mia giornata. Prova ad applicare queste cose o parte di queste, se ti piacciono alcune, nella tua giornata, nella tua prima ora della giornata, ma ricordati una cosa fondamentale, che la prima ora della tua giornata è l'ora in cui tu sei più produttivo. In realtà pensiamo di essere più stanchi, più smorti, ma se ti darai l'input di fare queste cose, di svegliarti, di iniziare la giornata, essendo tu in guida, vedrai che tutta la tua vita cambierà. Un'ora alla mattina può fare una differenza incredibile se la proiettiamo su una vita intera. Ricordati però che in tutto questo devi crederci, perché nessuno si sveglierà una ora prima al posto tuo. Quindi nessuno al di fuori di te potrà mai crederci più di te. Grazie.